abbrangiatevi hola tutto bene? sai di quello è proprio da spot pubblicitario ehi ehi scusa se mi intrometto guardalo fino alla fine che ti diverti allora oggi vi parlo di sei trucchetti per far sì che il suono diventi più corposo più rotondo più aperto stereofonicamente più come volete poi lo definirete voi e quante volte nei dischi sentiamo questi suoni meravigliosi a cominciare dalle voci alle chitarre ma anche degli stratagemmi per fare un bel ensemble di archi oppure di fiati qualcosina anche sulle percussioni come no per carità anche se con i suoni percussivi forse questi trucchi sono meno applicabili in quanto la maggior parte allora il concetto di base è molto semplice il tutto si basa su un ingrandire quindi il senso proprio di doppiare non è sempre così ma insomma una registrazione una take una traccia registrata allora essenzialmente dicevo sono sei i modi per farlo ve li riassumo brevemente il primo è il più classico è registrare due volte la stessa traccia poi aprirla in stereofonia il secondo beh il secondo è un po' figlio del primo perché voglio dire ti risparmia solo tempo cioè registri una traccia una volta poi la copi su fai una take la copi su un'altra traccia e una delle due la quantizzi non lo so con logic c'è c'è il flex che ti permette proprio di quantizzare un file audio come se fosse un midi quindi è chiaro che ci saranno degli degli spasamenti spasamenti non è il termine esatto ci saranno comunque diciamo che le due tracce non sono simili e quindi non si rischia neanche il problema della fase è uguale e però sono spostate di quel tanto che se poi pampottate una a sinistra e una a destra danno quel senso di ampiezza di profondità di campo insomma ecco se così possiamo dire mutuando un termine dalla dal campo della fotografia anche su altre due troverete la stessa la stessa funzione magari la chiamano warp vedete un po' su ableton perché si chiami warp e questo è l'altra e l'altro metodo sono metodi questi due in particolare applicabili a come possiamo raggruppare note lunghe quindi voce ma anche chitarre accompagnamento violini sax se vogliamo fare degli ensemble di fiati delle delle sezioni di sax o così comunque non ha note percussive perché è chiaro che questi sono principi che basandosi sulla sul piccolo spostamento temporale se applicati a strumenti percussivi generano quello che si chiama flam che va sotto il nome di flam in pratica è il suono tra e non ta il batterista quando percuote il rullante se vuole fare un flam fa con entrambe le bacchette a distanza di proprio di mille secondi fa tram ok imito con la voce perché non ho a disposizione adesso delle bacchette e quindi a suoni lunghi in linea di massima un altro un altro modo per fare questa cosa qua è quella di quindi se abbiamo le due tracce già registrate cioè significa fisicamente tu fai prima una chitarra poi ne registri un'altra uguale pressoché uguale apri e per accentuare la stereofonia puoi spostare di sent di tono di si di tono dico bene quindi con logic per esempio guarda ti faccio vedere sulla schermata di logic abbiamo ad esempio questa funzione qua vado su un audio comunque adesso lo vediamo meglio abbiamo una funzione che si chiama delay eccola qua come vedete parte dai centesimi di tono se noi andiamo a a vedere cosa no vedi addirittura da un novantaduesimo quindi una traccia la sposti un novantaduesimo avanti e l'altra la sposti un novantaduesimo indietro in maniera tale che così non hai non hai il rischio di farla sentire appoggiata o troppo anticipata l'altro sistema è la classica equalizzazione in contrasto quindi cambiare proprio il suono su due tracce questo ti risolve anche il problema della fase in quanto l'equalizzatore è comunque uno spostatore di fase a meno che non sia un equalizzatore a fase lineare ovviamente vabbè andatevi lì a guardare ci sono un casino di video sugli equalizzatori ma un normale equalizzatore se voi lo applicate e poi andate a guardare ad allargare la traccia vedrete che rispetto all'originale l'ha spostata un po' più avanti un po' più indietro e un altro sistema ottimo che non dunque questa qua dell'equalizzatore potrebbe potrebbe dico potrebbe anche non richiedere un eccessivo pampottaggio quindi un quarto e un quarto ecco perché comunque ci pensa l'equalizzatore a fare giustizia l'altra in cui appunto non è necessaria una stereofonia ma la stereofonia comunque la usiamo poi a prescindere adesso poi vediamo nell'ultimo esempio che addirittura si può usare per le frequenze che per antonomasia non hanno stereofonia cioè le basse dunque oh mamma poi faccio i voli pindarici e mi perdo allora stavo dicendo un altro sistema va benissimo sulle voci in particolar modo se devi fare dei cori doppiarti la voce e il problema naturalmente sussiste quando ti doppi all'unisono perché se ti doppi in armonici armonizzando non non hai questo problema all'unisono potrebbe esserci una poca visibilità dell'effetto che uno può essere talmente sincrono ed intonato che fa una voce e raddoppia soltanto l'intensità mi spiego essendo basato la percezione di quantità proprio sui piccoli errori ecco che noi introduciamo volutamente una difformità ecco chiamiamola così né sbaglio né errore una difformità detunando una delle due tracce quindi con il detune sempre schermata di logic scusate ma io uso questa come queste cose le trovate su qualsiasi dove non è che devi avere logic per forza ecco dove dice non transpose ma fine tune allora è buona regola spostare di piccole porzioni di semitono anche qui come nel delay come nel ritardo se una traccia la sposti che ne so più 18 avanti l'altra sposta la più 18 indietro così hai comunque 36 centesimi di tono di come si chiama di differenza tra le due un altro sistema invece di stereofonia premetto le note basse sono le note sferiche le note a palla quindi il basso non ha stereofonia in generale non a caso i sistemi surround il woofer sempre uno che sta sotto lì al centro perché comunque diffonde sfericamente la il suo segnale un buon sistema però se tu vai proprio ad ascoltare lo avverti fisicamente meglio con un paio di cuffie con due casse insomma in stereofonia e quello di applicare al basso un minimo di chorus un minimo di chorus sentirai che più lo applichi adesso li facciamo questi esempi e più ti da la sensazione che la stereofonia aumenti ecco il chorus perché fa questo fa questo perché ha una modulazione allora il chorus è molto simile al delay sembra ma è così il delay sposta di pochi millisecondi in avanti il segnale quindi tu senti l'effetto delay eco come lo vuoi chiamare nel chorus a quello spostamento quindi sono due segnali fondamentalmente al segnale spostato viene applicata un'onda di solito sinusoidale quindi attraverso un LFO ecco a cosa servono gli LFO i Low Frequency Oscillator cioè sono oscillatori che tu non senti ma che avverti se applicati su altri segnali e quindi questa oscillazione nel tempo del secondo segnale dà l'effetto chorus allora andiamo a vederli sul on the road sul campo e capiamo come sono fatti e come si possono applicare prima di fare ciò naturalmente un consiglio spassionato fate in modo che io possa continuare a fare questi video con un semplice gesto iscrivendovi al canale e schiacciando la campanellina ok schermata di logic pro allora cuffietta in testa fatevi il vostro bel pam e andiamo ad ascoltare allora io ho già registrato due tracce la prima questo è un pezzo di non so come mi è venuto in mente di charlie chaplin pensate un po' dal film luci della ribalta se non sbaglio il pezzo è smile allora io mi sono divertito a fare questo corretto corretto prima di tutto una parte solista che è venuta in mente bene bene allora è chiaro che è molto ispirata ad un ad un arrangiamento per fiati perché è tipicamente da fiati questa cosa qua però comunque anche le voci lo possono fare dopodiché ne ho registrato un'altra cercando di andare più o meno a tempo dico più o meno perché non è flexata cioè non è quantizzata è così alla brus anche negli effetti eh ragazzi non sono stato lì e quindi viene così fa 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 ascoltare la stessa cosa pampottando un po di qua e un po di là diciamo e dando la l'esatta metà del pan pot tra una e l'altra traccia e così via mettiamoci ovviamente ovviamente cominciamo a cucinarle un pochino perché sennò veramente poi sono proprio crude crude e mettiamogli un pochino di riverbero che lo andiamo a prendere dal solito chroma verbo chiamolo monotustereo come vuoi preset solito vocal quelle robe la do stai eccolo e quindi sarebbe così e quindi fa un po da colla allora cosa succede queste sono realmente due tracce separate quindi diciamo che è inutile che io stia lì ad applicare flex non flex una cosa che posso fare qui è quella lì del detune cioè se io vado a detunizzarle passatemi il termine lo stai transport fine tune che ne so diamogli un vabbè è un sistema andiamo a fare invece un'altra prova cioè prendiamo moltizziamo questa traccia prendiamo questa identica traccia andiamo a ragionare piuttosto che spostare la cosa spostiamo alla traccia con due tracce uguali quindi dovremmo avere un problema di fase grosso concevo ovviamente ovviamente se mettete in mono è un delirio mettiamo in stereo non è che cambi tanto sia sia proprio un raddoppio di volume fa 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 è proprio uguale a prima allora cominciamo a dire vi ripeto sono la stessa traccia e sfasiamo le prima di di tono allora mettiamo un 20 avanti questa è un 20 indietro giovane è un vento indietro quest'altra siamo però al limite dei battimenti cioè del chorus alla fine cioè è veramente pochissimo e non l'orecchio non si fa prendere in giro tra virgolette così facilmente proviamo ad esagerare fino a 30 vediamo cosa succede ma non garantisco risultati sentiamo sì sicuramente comunque la stereofonia aumentata ma se andiamo a slargare noteremo che siamo di fronte allo stesso segnale chiaro è proprio lo stesso segnale slittato del semitono di quanto è abbiamo messo meno 60 centesimi di semitono ma andiamo invece a slittarlo un po nel tempo sto segnale e vediamo cosa succede quindi abbiamo un delay che porteremo a facciamo un 96esimo qua e meno un 96esimo invece da quest'altra parte ascoltiamo proprio troppissimo 92esimo di qua 92esimo di qua togliamo il detune vediamo cosa succede già è una bella stereofonia per carità ok meglio con un pelino di detune dai quindi fine tune eccolo qua facciamo 18 qua un pelino di meno 4 o 12 chiaro? a questo punto si può ragionare ecco che in questo modo mettendo l'altra traccia se proprio vogliamo fare gli sboroni dice quello là e facciamo che la mettiamo al centro questa qua questa era quella proprio riregistrata da capo possiamo vedere che effetto otteniamo beh direi insomma che ancora all'unisono fatto da una sola persona ottenere questo risultato ecco poi a questo punto potresti anche vedere altri trucchetti digitali del tipo chorus come beh così per esempio mandando tutto quanto su un su un bass mandando tutto sul 10 che chiamiamo che cacchio ne so box allora cominciamo sentiamo come suona allora ce l'abbiamo qua ok ok qui possiamo cominciare a mettere beh vabbè i vari match q e cosa divertiamoci mettiamo un'equalizzazione chiaro che qua c'è il bordello allora dai un po via va bene proviamo a mettere un corossino vediamo che succede vediamo che succede dove state? giovani eccolo qua diciamo che può funzionare insomma anche con che ti devo dire con il come si chiama anche se mettiamo sai ensemble chorus e flanger più o meno sono quelli vediamo sentiamo con questo che succede è una questione proprio di gusto passiamo senza portempo in mezzo al discorso invece del basso per fare ciò vado a prendere un plugin che dentro c'è già il suo bel chorus così non dobbiamo neanche andare a prenderlo tipo questo ok e c'è il chorus allora questo è un basso se io metto facciamo una specie di 808 come viene chiamato adesso ok allora questo basso adesso diamogli un minimo minimo di controllata perché se no fa il cacchio che vuole ascoltate mentre suona gli vado ad aumentare il corso senti centrale mettiti le cuffie come lo tocco già 0,1 chiaro? vediamo con un chorus interno con un plug che cosa succede e quando comincia ad entrare allora vedi che lo avverti eppure è mixato se gli do tutto effetto lo senti proprio uno su un canale e uno sull'altro così è misto nell'insieme questo è l'effetto che dà se c'è il se non c'è il corso e adesso bonus track perché visto che l'appetito viene mangiando non possiamo fare a meno di schiaffare vieni qua vieni e ci schiaffiamo sopra un bel come si chiama stilos un bello stilos prendiamo un uno swing uno svingo swingo le parole vai medico medico truppa 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 questo non si ferma a chiù eh sì perché non lo è buono non l'avevo dragato lo draghiamo lo draghiamo senti senti il cane abbaglia lì carino carino bene facciamo un'altra prova mettiamo un ultra bit un ultra bit a parte gli scherzi ragazzi swing sempre inserito quando fate queste cose perché la base è comunque terzinata e terzina quindi sempre inserito lo swingo lo swingo le parole altrimenti altrimenti e qua trovi gli altri trovi anche gli altri va senti senti ferma senti come fuori senti come fuori non c'è lo swing su questo senti come fuori diamogli lo swinghino ok stop e varia prima di chiudere proprio in appendice un appunto giusto di natura ritmica tenete conto che ho fatto le voci solo con un bpm è chiaro che facendosi aiutare forse avrei dovuto mettere prima il luppetto di batteria viene fuori una roba più spinta questo inciderà anche sul sincrono e a sua volta sulla stereofonia e sulla effetto quantità quindi diciamo che quando ti metti a fare nel caso di di cori una sovrapposizione di voci cerca di avere sempre prima non era questo lo spirito di questo tutorial ma cerchiamo di avere sempre comunque una base ritmica a disposizione ok ragazzi questi sono i contenuti che mi piace sviluppare e sono veramente contentissimo di poterveli regalare regalatemi una iscrizione al canale schiacciate la campanellina e niente io vi saluto e vi do appuntamento alla prochaine bye bye arrangiatevi